Disertare l'ultima prova a campionato vinto? È giusto? È giusto farlo? Molti se lo sono chiesti dopo che Sugar3 ha stravinto obiettivamente il campionato mondiale Ork in classe C e non ha partecipato all'ultima prova. Sugar3 ha fatto un secondo nella prova d'altura e poi dopo ha fatto tutta una serie di primi sui bastoni per cui sostanzialmente l'ultima prova l'avrebbe scartata, sostanzialmente l'avrebbe scartata per forza, che sia che avesse vinto l'avrebbe comunque scartata, in ogni caso doveva scartare un primo posto non potendo scartare la regata d'altura che era la prima, quindi l'avrebbe comunque scartata. Non sarebbe cambiato assolutamente nulla neanche, devo dire, nel punteggio finale della barca, quindi proprio avrebbe chiuso comunque con quei punti lì. Beh, molti ovviamente hanno dato dell'antisportivo a questa barca, ma devo dire che a me è capitato di trovarmi in questa situazione, sia di trovarmi in questa situazione negli anni precedenti, in cui comunque era tra quelli che inseguiva, quindi si chiedeva se fosse giusto che la prima barca non partecipasse all'ultima regata, e poi mi sono trovato invece qualche anno fa, a volte nella condizione di aver vinto un campionato con una prova d'anticipo. E a quel punto lì, devo dire che, essendo coerente con quello che pensavo, ho detto, boh, partecipo lo stesso. Ok, però partecipo lo stesso, però sei lì che sai già che hai già vinto. Quindi cerchi di non dar noia al secondo, al terzo e al quarto, che magari si stanno giocando le loro posizioni che sono comunque molto importanti, per loro ma anche in generale. E quindi tu dici, guarda, provo a non dare fastidio a nessuno, quindi magari provo a partire sotto vento a tutti, sparo il bordo e spero di incrociare davanti a tutti. Ma questa cosa spesso ovviamente non succede, non è che se fai il bordo angolare poi vinci la regata, no? E quindi comunque non stai facendo la tua regata, stai comunque influendo nel campionato in maniera sbagliata. Un'altra possibilità sarebbe di far la regata per vincerla. Ok, tutto bene, c'è da dire che se per caso rimani invischiato nelle retrovie, in qualche modo, perché magari ti è calata la tensione, eccetera, rischi di fare casino e rischi di compromettere il risultato di altri. Quindi ti senti un po' come un invitato obbligato a una festa alla quale non si sa bene se gli altri vogliono che tu partecipi. Quindi ti senti di base un po' a disagio. Quindi io capisco e giustifico, essendo stato in entrambe le posizioni, quindi sia tra quelli dietro, sia tra quelli davanti, io giustifico la decisione di Sugar 3 di non partecipare, perché secondo me è probabilmente la cosa giusta da fare. Cioè tu comunque anche organizzativamente semplifichi le cose all'organizzazione, rientri prima, non fai parte dell'imbuto di barche che rientra tutto nello stesso momento, se devi andare una gru vai sotto la gru prima, se devi tirarla su la barca sullo scalo, sei il primo a tirarla su per cui la puoi già mettere a posto, puoi già togliere il carrello, insomma, ti puoi già portare avanti su tutta una serie di cose. E non c'è nulla di poco rispettoso in questo atteggiamento, a mio parere, che è molto americano, per la verità, però effettivamente ha una sua logica che in realtà funziona. Chi ha commentato, secondo me non si è mai trovato in quella condizione lì, e non si è mai trovato in quella condizione lì, avendo la conoscenza di tutti gli avversari e comunque di tutte le dinamiche che ci sono all'interno di un campionato, che comunque è importante per tutti i gradini del podio. E il fatto di potervi influire in maniera positiva o negativa, spesso, in un modo poco controllato, in realtà fa sì che sia meglio veramente che tu non partecipi del tutto. A quel punto le barche sapranno già prima che se ti consentiranno di vincere con una prova d'anticipo tu non parteciperai e che quindi l'ultima prova avrà dei ponteggi mediamente probabilmente un po' migliore delle altre. Metti che abbia fatto tanti primi per qualche ragione, allora probabilmente ci sarà libero il primo posto e quindi sarà più facile, perché arriva davanti nell'ultima prova, fare un ponteggio tale che gli consente di sorpassare la barca successiva, proprio per la ragione che il ponteggio migliore sarà più accessibile rispetto al solito. Basta saperlo prima. Il fatto di dare per assodato in una classe che nel caso che il primo abbia grande vantaggio non partecipi all'ultima prova, questo secondo me è un fattore di chiarezza che aiuta tutti a giocarsi meglio le proprie carte. Ciao e buona giornata. Ciao e buona giornata. Ciao e buona giornata.